Musica Prosegue il successo del villaggio Lilliput a Pagnoli presso la città della scienza inaugurato il 30 aprile scorso. Sono circa 5.000 bambini di età compesa tra i 3 e i 12 anni che visiteranno i 40 laboratori ludico-didattici messi a disposizione da Exit Communication. Soddisfatta l'amministratore unico della Exit Communication Danila Serra che aspira una forte collaborazione tra privato e pubblico affinché venga rastituita a Pagnoli la dignità di città e la cultura e ci si impegni perché la struttura possa nuovamente essere considerata polo scientifico e culturale nel mezzogiorno. L'impegno di numerose aziende del territorio ha sottolineato quanto il tema educativo sia di rilevanti interessi sia dal punto di vista didattico sia anche dal punto di vista nutrizionale. La responsabile della comunicazione per inato, dottoressa Francesca Pinto, si è detta estremamente entusiasta dalla partecipazione e felice di aver confermato l'impinio dell'azienda anche quest'anno. Nonostante il ridimensionamento dell'area disponibile a villaggio, continua la dottoressa, in quanto i danni provocati agli ingegneri propiglioni volti a male della città della scienza non ne hanno permesso l'utilizzo, abbiamo saputo adeguarci e fare del nostro meglio per evitare il disagio al pubblico che osservano la giunità di un'ercivilizzazione. Ciao!